Erano inesistenti sia gli investimenti immobiliari in America e Germania, promossi con protezione del patrimonio e rendimenti fino al 96% al costo di 13.000 euro, così come erano solo virtuali le società coinvolte e la loro operatività. Lo hanno scoperto con l'operazione piramide di carta e finanziere del comando provinciale di Pesaro che hanno arrestato nei giorni scorsi a Milano, Vito Rizzo, 43 anni, originario di Messina, sedicente promotore finanziario ritenuto responsabile di truffe ai danni di circa 300 investitori residenti in tutto il territorio nazionale, di cui circa 50 in provincia di Pesaro Urbino. L'uomo, su cui la Guardia di Finanza indaga dal 2014, viveva da anni all'estero e recentemente in Croazia, a Pola. È stato bloccato su ordine di custodia emesso dalla GIP di Pesaro, chiesto dalla procura dopo aver avvarcato il confine a bordo di un'automobile indebitamente sottratta ad un'agenzia di autonoleggio. Per gli investimenti bluff promossi da società estere, tra cui VGM Business e Innovative Investment Holding Ltd, con sedi in paradisi fiscali, i truffati hanno fatto bonifici in conti svizzeri, croati e maltesi gestiti da Rizzo, che gli inquirenti stanno cercando e su cui pende un decreto di sequestro per oltre 3,2 milioni di euro. Per allettare gli investitori su un sito internet e su un diario social vite da sogno, venivano pubblicate anche foto e testimonianze di successi delle iniziative imprenditoriali. Tramite passaparola, l'organizzatore offriva contratti di associazione in partecipazione per gli investimenti immobiliari risultati inesistenti. Durante le indagini l'autorità aveva anche segnalato il caso alla Consob, la quale aveva sospeso e poi revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria da parte delle società estere coinvolte. Per aggirare questo divieto hanno ricostruito gli investitori. Rizzo si sarebbe poi appoggiato a un soggetto milanese, offrendo investimenti denominati sell o shares, con possibilità di garanzie anche con diamanti.